A tutti bentrovati, giovedì prossimo si apre la dodicesima edizione del Festival Biblico, 150 eventi incentrati sul tema della giustizia e della pace, ma sentiamo in proposito il Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol. Questo Festival Biblico, pace e giustizia si baceranno? Sì, sono quattro, anche qui, gli elementi che secondo me sono come i quattro punti cardinali, perché il Salmo 84 dice prima misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno e anche la progressione con cui vengono presentate prima la misericordia nella verità, la giustizia che sola può garantire una pace e duratura. Quindi questi quattro punti cardinali vanno presi insieme perché così si rivolgono all'interezza, diciamo, alla globalità sia delle persone sia di tutta la famiglia umana. Questi due poi elementi, anche questi, vanno presi nel loro cadenza, come vengono presentati. Dobbiamo cercare la giustizia, vuol dire rapporti di politici, economici, personali, comunitari, sociali che abbiano come punto di riferimento, come stella polare la giustizia, che vuol dire anche a livello, ad esempio, di economia. Allora sicuramente si può arrivare anche alla pace, altrimenti la pace resterà sempre mancanza di conflitti, assenza di guerra, attività diplomatiche, compromessi, ma non arriveremo mai a una pace e questo mondo ha le capacità, diciamo, per poter progredire, non in modo utopico, ma in modo realistico verso la pace. La Chiesa Vicentina ha quattro nuovi diaconi, sono giovani studenti del seminario diocesano dai 25 ai 33 anni. Diaconi da diaconia, che vuol dire servizio, avranno il compito di assistere il vescovo e i presbiteri, di assistere e benedire matrimoni e battesimi, di fare servizi di carità, di presiedere i funerali, naturalmente di proclamare il Vangelo. Come avete vissuto questo momento, domenica, questa ordinazione? È stato come un confluire di vari rigagnoli, di amicizie, di legami che si sono uniti e una grande gioia è esplosa appunto per noi, penso a partire appunto dalle scelte fatte, dal cammino che abbiamo percorso in questi anni in seminario, in parrocchia, sia di origine che di tirocinio. Ed è una grande festa che veramente ha messo insieme volti, storie, sorrisi, anche qualche lacrima, che però appunto sono state veramente vissute nel Signore, soprattutto poi appunto del dono di una vita che deve essere espressa giorno dopo giorno in questa donazione continua. Una parola del vescovo che vi ha colpito, insomma, o di quello che avete sentito durante la cerimonia? Per me è stato significativo l'invito che ha fatto che noi, nel nostro servizio, nella nostra vita, dobbiamo raccogliere le storie, le vite, i momenti belli, i momenti tristi delle persone e simbolicamente unirli nell'acqua del calice, che è un compito proprio del diacono, proprio per presentare tutto ciò che noi incontriamo al Signore in quel momento così solenne. Ecco, alle vostre spalle però c'è già una storia, anche se siete molto giovani. Che cosa avete fatto prima? Perché siete arrivati a questa scelta? Grazie per i giovani intanto. Beh, io ho un percorso ovviamente di vita parrocchiale, come animazione con i giovani, catechesi, ma anche, vabbè, un percorso di studi storico-artistici e lavorativi, qui in un museo della nostra città, di Vicenza. Ma è stato proprio dalle domande dei ragazzi, dei giovani nei gruppi parrocchiali e le mie domande interiori che mi hanno messo in cammino per fare appunto una scelta di discernimento vocazionale con il gruppo SICEM e poi l'ingresso al mandolo e qui in seminario. Quale domanda in particolare? Che cosa cerchi e chi cerco? Quindi puoi guardare il succo che si condensa tutto nel chi amo. E ovviamente la risposta è arrivata nel Signore Gesù Cristo. E tu? Beh, io ho avuto anche un percorso parrocchiale fatto di gruppi, scout e varie altre realtà giovanili di servizio. La mia ricerca è iniziata più o meno al tempo delle superiori, durante il liceo classico e mi sono fatto aiutare da alcuni preti, da alcuni frati che conoscevo, proprio per essere aiutato a capire meglio cosa si muoveva dentro e cercare il modo di essere felice. Questa era la domanda che mi muoveva, che cercavo di dare risposta. E anch'io sono approdato al seminario cercando di dare risposta a quella domanda. Anche per voi l'ordinazione diaconale, che cosa vi aspettate da questo percorso? Mi porto l'immagine di domenica scorsa. Rimanere affascinato dai volti delle persone che sono venute a partecipare, a celebrare insieme questa ordinazione. Lasciarmi stupire, non solamente delle cose belle, ma anche delle sofferenze che le persone portano con sé. E riuscire ad essere, nel mio piccolo, una piccola goccia di speranza. E per te? Ma io penso che mi piace immaginare il mio diaconato come un'occasione per prendermi sempre più cura delle persone che incontro attraverso gesti concreti. Che servizio siete chiamati a fare in particolare, magari anche personalmente? Ma non nego che in questi primi giorni l'aspetto del servizio liturgico è quello che mi ha investito in modo più forte. Poi credo che, come diceva il nostro Vescovo, il nostro servizio è soprattutto quello che facciamo lungo la strada. Quindi un po' quello che già capita, mettersi lì, ascoltare le persone, accoglierle, magari dire anche una parola. E per te? Beh, c'è da finire ancora il seminario e quindi ci sarà un altro anno bello intenso di studio. In parrocchia principalmente sono attivo nel settore giovanile. E poi, come diceva Andrea, c'è tutto quanto l'aspetto liturgico che non sarà indifferente. Il malato è, nell'anno del Giubileo della Misericordia, un protagonista privilegiato. Per questo, a Monteberico, una giornata dedicata. Visitare gli ammalati è tra le azioni di misericordia quella più testimoniata nella storia del cristianesimo. Il malato stesso, da oggetto, diventa soggetto di evangelizzazione. Il malato, non solo sul piano fisico, ma anche nell'anima, è un insegnamento per tutti, poiché ci fa conoscere la nostra fragilità, la nostra capacità di resistenza, la nostra necessaria sottomissione alla morte quando la resistenza non è più efficace. La celebrazione del Giubileo del malato rappresenta per i volontari dell'Unitalsi un momento di condivisione con chi ha avuto meno dalla vita. L'ammalato non deve sentirsi un problema, ma accolto, ascoltato e consolato. La misericordia è per il volontario unitalsiano l'obbligo dell'assistenza agli ammalati, il riconoscimento delle sue fragilità, mani, braccia e cuori che aiutano Dio a compiere i suoi prodigi nascosti. Impegno gratuito, penitenza e preghiera sono i valori del volontario Unitalsi. E ora l'editoriale. Il corrente sabato, alle ore 21, in cattedrale, il Vescovo Pizzoli presiderà la veglia di Pentecoste. È un momento molto importante al quale tutti siamo invitati che vede riuniti assieme a realtà diverse della nostra Chiesa locale, però tutte accomunate dalla ricerca vocazionale, dall'impegno a dare una risposta alla chiamata del Signore. Il fatto di celebrarla nella veglia di Pentecoste, dove è al centro dello Spirito Santo, dice un messaggio chiaro di come dobbiamo affidarci allo Spirito per capire come dare concretezza alla chiamata del Signore. I gruppi ministeriali, i giovani del gruppo SICEM, le aggregazioni laicali, i giovani che chiedono la missione al seminario, sono realtà che durante la veglia avranno evidenze e indicheranno anche un modo per stare dentro al mondo e alla Chiesa e per rispondere in maniera convinta e coraggiosa alla chiamata del Signore. L'agenda con le attività del Vescovo, domenica 15 maggio nel pomeriggio parte per Roma dove partecipa l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana fino a giovedì 19 maggio. Pertanto anche la segreteria Vescovile rimarrà chiusa. Venerdì 20 maggio alle 10 a Villa San Carlo, i Contra e Preti, over 75. Alle 19 nella Chiesa parrocchiale di Camazzo, le preside la Santa Messa nella festa del Patrono San Bernardino. Domenica 22 maggio alle 9.15 all'Hotel Viest di Vicenza porta un saluto al convegno dell'Associazione Diabetici di Vicenza. Alle 15.30 in seminario preside la Santa Messa nella giornata della Cerrissimo Diocesano dell'Azione Cattolica. A Villa San Carlo, a Costa Bissara, giovedì 19 maggio alle 15 il ritiro per la comunità di teologia del seminario e venerdì 20 maggio alle 10 l'incontro per i preti oltre 75 anni. Sabato 21 maggio l'incontro dell'Unitalsi e domenica 22 maggio alle 15 il terzo incontro del Cammino di Fede per fidanzati sul tema Sessuati si nasce, sessuali si diventa, il linguaggio del corpo, il significato dei gesti, tenuto da Don Giuseppe Pellizzaro. E con l'agenda anche per questa puntata è tutto. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.